Vogliamo accogliere ancora, continuiamo a farlo perché Serra dei Conti accoglie, accoglie da 40 anni extracomunitari e immigrati di qualunque provenienza. Serra dei Conti ha una radicata cultura dell'accoglienza e l'adesione alcuni anni fa allo SPRAR, il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, oggi Rete Sai, lo testimonia. Lo rimarcano i cittadini del Comune del Lanconetano dove si profila la possibilità che l'hotel a ridosso del centro storico, di cui è già stato firmato l'atto preliminare di vendita dalla vecchia proprietà, si trasformi presso in casse. La società che ne sta per entrare in possesso, mancherebbe infatti solo il rogito, gestisce vari centri per l'accoglienza straordinaria degli immigrati e subito dopo la firma del preliminare di acquisto ha partecipato al bando che assegna la struttura a 50 ospiti. Una possibilità che preoccupa i cittadini che si sono costituiti in comitato e che hanno raccolto già 560 firme su 3600 abitanti e che sono stati ricevuti dal prefetto di Ancona d'Arcopellos, essendo le prefetture incaricate di reperire tramite i bandi le strutture sul territorio. Sono arrivati con tutte le loro preoccupazioni, il tipo d'accoglienza, il fatto che la gestione possa essere più attenta ai numeri che alla qualità e questi numeri sono considerati troppo alti per una piccola comunità come Serra dei Conti. Le nostre preoccupazioni sono quindi anche di ordine pubblico, perché quando si ammassano tante persone che provengono da nazioni diverse, da religioni diverse, spesso in conflitto tra loro, possono crearsi dei disordini sia all'interno del CAS sia all'esterno. Noi chiediamo al prefetto questa mattina di valutare un modello di accoglienza diverso, un modello di accoglienza che rispetti sia l'ospite che l'ospitante. Un modello toscana dove l'85% dei comuni accoglie i migrati con formule di carattere familiare e un'integrazione capillare di piccoli gruppi nel tessuto sociale cittadino. La proposta di questa accoglienza diffusa sul modello toscana, come hanno avanzato il comitato, così l'abbiamo presa in considerazione, ci si sta lavorando, verrà proposta a livello regionale perché non è il comune singolo che purtroppo riesce ad attuarla. Preoccupazioni messe sul tavolo dell'incontro molto partecipato in prefettura e di cui il prefetto stesso ha riconosciuto la legittimità. Nessun atteggiamento razzista, ha detto, ma la seria volontà di un territorio di privilegiare la qualità di un gesto nobile come l'accoglienza rispetto alla quantità. Vigiliamo settimanalmente sulla corretta gestione dei centri della nostra provincia. Essi si riscontrano in adempienze, sono previste sanzioni e commissariamento. Abbiamo trovato nei cittadini di Serra dei Conti degli interlocutori validi e sensibili. Valuteremo tutte le richieste avanzate per conciliare le esigenze di sicurezza con quelle dell'accoglienza e i cittadini restano in fiduciosa attesa.